Ciao a tutti amici. Innanzitutto buongiorno. Mi è arrivato un commento di un utente che dice che si sta annoiando e che devo dar fuoco alla chitarra. Anch'io mi sto annoiando. Potrei uscire e andare a fare colazione al bar, ma da mangiare c'erò e non vorrei che andasse male. E poi non vorrei spendere soldi. Allora strippello le mie melodie e così passo un po' di tempo e scusatemi se vi annoio. No, scusatemi, voglio dire non guardatemi se vi annoio. Questa è l'ultima melodia che ho scritto. No, scusatemi, voglio dire non guardatemi se vi annoio. Questa è l'ultima melodia che ho scritto, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per sapere se la fase poteva andare, hanno detto che non si capiva, allora ho messo i V. Quasi quasi lo metto brutto, tanto si capisce che non è nel senso fisico. Quasi lo metto brutto, tanto si capisce che non si capisce che non si capisce che non si capisce che non si capisce.